ogni sabato alle 15 e 30 sul binario musicale di taglia 1 parte rapido questa settimana sul vagone con me ci saranno Lucio Dalla, Bruce Springsteen e i Cardinals ci aspettiamo ci vediamo rapido domani 15 e 30 Italia 1 ciao Paragol mi piace da matti e mi piace da matti fare bevendo con Ringo io mi diverto così e poi sai cos'è che mi hanno detto di Ringo che adesso c'è ancora più crema per me è solo che è molto più buono mica male per uno che era già un mito ancora più crema ancora più goloso a merenda vince Ringo dietro la prevenzione completa di Mentor & P c'è una protezione contro la placca batterica di durata mai superata Mentor & P protezione imbattibile per denti e gengive ogni giorno più sani e più forti come sono le tariffe di Tele2? Quanto spende telefonando con Tele2? Cambierebbe Tele2? ah 10 22 Tele2 nessun canone solo 195 lire al minuto più IVA di giorno 95 lire al minuto più IVA di notte e nel weekend chiamate subito 800 22 10 22 Tele2 il risparmio è pronto e ora dopo la torre visitiamo la casita mira il dito mira la calezza si sente quando è estante sono qui per il test si è edificio Mentadent ha inventato un chewing gum Actigan contiene zinco citrato ed è molto efficace contro la placca e ora tu lo assaggerai no saprà di zinco citrato no di menta selvatica nuovo Mentadentactigan vedrai che ti piace anche quest'anno l'estate ti scopre in forma grazie a Kellogg's Special K Special K di Kellogg's specialmente buone per stare in forma donne nuove donne libere donne che vogliono il massimo donne che scelgono l'Uvegna Libress Ultra l'Ultra Sottile l'unico con Efficat l'esclusivo doppio margine di sicurezza l'Uvegna Libress Ultra il mio doppio margine di sicurezza squilla il telefono leggi il numero è Laura quella che hai conosciuto l'altra sera e che ti piace ciao piccola ciao cucciola pasticcino ciao piccola 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 bella basta Laura ma stavo leggendo Dostoevsky l'idiota chi è di Telecom Italia il piacere di sapere prima di rispondere switch si è rifatta il trucco ed è ancora più pungente sembra che tu abbia ingoiato un carroattrezzi ma è sempre Franca Cacoce cioè la vostra tata che vi aspetta con i nuovi episodi e una grossa sorpresa sembra un sogno una magia mi tratta come una principessa oh sto arrivando la tata da lunedì alle 19 e 30 su Italia 1 ciao a tutti Grazie a tutti.